Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 18 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno? Straordinariamente baciati dalla fortuna? Beati voi, baciati dalla fortuna o almeno risparmiati dall'Aiella, con tutti gli astri al posto giusto, la Luna, Urano, Giove, Veneri da un paio di giorni e anche Mercurio, tutti quanti in segno di terra come il vostro. Perfino l'influenza di Plutone, per molti astrologi ancora misterioso, tutto da scoprire, non vi tocca direttamente e se al piccolo Dio messaggero dai piedi alati non risparmia una sferzante quadratura, è solo per ricordarvi che nella vita nulla vi è di gratuito, bisogna guadagnarselo con la pazienza e l'impegno. Perfino la vincita che potrebbe piovere nelle vostre tasche è frutto della costanza con la quale giocate i vostri due euro ogni settimana. Vero sommandoli, uno dopo l'altro, forse l'ammontare della spesa supera quella del guadagno, ma. Grande la soddisfazione sentendosi baciati dalla dea bendata. L'amore mette giudizio e ha voglia di concretizzare, una donna matura che aiuterà la coppia a coronare il loro sogno o a superare una profonda crisi. Cortegiammenti anche al di fuori della coppia. I single scopriranno presto persone segretamente innamorati di loro che cercheranno di dichiararsi o di rendersi presenti. Vantaggi da lavori di gruppo, anche di associazioni, di club, in gruppi di amici. Però necessita che tu faccia chiarezza su un rapporto. La vostra situazione economica potrebbe ristagnare a causa di qualche errore commesso tempo fa, riprendete presto la rendigna e cercate di porre rimedio agli errori. Oggi potreste dover affrontare una grana legale o per un vecchio contenzioso mai chiarito e definito. Cercate di ottenere un accordo a voi favorevole. Non abbiate timore di osare, se state pensando di organizzare un viaggio fatelo con tranquillità. Le risorse potrebbero sopraggiungere improvvisamente e potreste godere di un ottimo periodo di vacanze. Un messaggio improvviso potrebbe segnare una svolta nella vostra giornata. Per chi cerca un lavoro oggi è un buongiorno davvero, tuttavia dovrete accontentarvi di ciò che trovate, per adesso. Non disdegnate oggi il consiglio che vi verrà dispensato da un ariete o da un pesci, vi serviranno per prendere una decisione importante. Ci sono alcune questioni in bilico da risolvere, alcune delle quali destano una certa preoccupazione, cercate di mettere mano a quelle più importanti e cercate di risolverle al più presto. Del resto avete le necessarie energie per farlo. Oggi subirete un torto anche se poi resterete soddisfatti dalla sorte che è toccato a chi vi ha fatto quello. Tuttavia ricordate, il perdono è gratis, sempre. Ignorate le male lingue e continuate ad andare avanti per la vostra strada. Vi farà bene. Un quadro un po' altalenante per voi in questa giornata di metà maggio. Marte è negativo tecnicamente e vi fa un po' faticare nel raggiungere un equilibrio intimo. In serata tuttavia la vostra situazione psicologica si rasserena e vi riporta quella incrollabile saldezza interiore che tutti vi riconoscono. Buon per voi che siete in giornata. E che giornata, coccolati dalla luna in vergine, segno di terra come il vostro e per giunta intrigono a Venere e Urano nell'altrettanto compatibile segno del toro. In più a darvi man forte, anche se con studiata lentezza, entra in scena il vostro astro guida Saturno in se stile, vero che bisticcia con la luna e le sue velleità di trekking e di svaghi campestri, anche voi amate la natura e i silenzi meditativi, ma stasera qualche faccia mica intorno, un po' di musica e due chiacchiere intelligenti non vi dispiacciono affatto. Amore ed Eros L'amore vi folgora, a una festa o un meeting o magari sui social. E proprio su questo argomento scivoloso occorre fare attenzione, dietro una persona così garbata, bellocce e a modo potrebbe nascondersi un tipo di tutt'altro genere. Gli incontri migliori sono quelli che si fanno in viaggio, in azienda, a scuola, potranno magari nascondere una doppia personalità, ma sicuramente non un furto d'identità. La vostra soave tranquillità con la persona amata è la qualità più stimata che il vostro segno vi dà. Questo nuovo giorno di maggio di fronte alle bizzarrie e a un pizzico di disordine che vedrete manifestarsi in lei o in lui, sarete pacati col cuore fermo, sempre costante. Nella stragrande maggioranza dei casi, vincerete voi alla fine. Lavoro e denaro Tranquilli gli studi e il lavoro relativo al commercio, all'istruzione e soprattutto all'area socio-sanitaria. Far star bene gli altri, risolvere i problemi agli uomini, agli animali, alla terra è una grande missione, pur sempre faticosissima. Fortuna al gioco, basta anche un biglietto della lotteria o una giocata di due euro per portarvi a casa un discreto gruzzoletto, ci sta anche un'eredità, commovente e inattesa. Marte nel segno ostile al vostro della riete vi rema un po' contro, dandovi nervosismi immotivati con i colleghi e qualche carico di impegni di troppo. La fatica, in realtà non vi spaventa, siete il segno più operoso dello zodiaco insieme a pochi altri, ma volete anche che i vostri risultati siano adeguatamente stimati e rispettati. Un collega vi appoggia nelle vostre legittime aspirazioni che troveranno la comprensione dei responsabili. Non ci vorrà poi molto per accorgervi che, dopo aver messo in campo pazienza, costanza, lucida strategia, avrete avuto il vostro giusto riscatto. Benessere. Bruciorino di gola, messaggio inequivocabile per i fumatori che nella sigaretta cercano quell'introvabile relax. Non avete bisogno di fumo, piuttosto di aria buona, meno male che da stasera si stacca la spina e potete partire per un piacevole weekend, cambiando ambiente anche il vostro nervosismo perderà quota. Per lei, sulla voglia di avere un pupo frenate, l'inverno demografico non è causato da uno stile di vita diverso, piuttosto dagli stipendi che non aumentano mai, quelli che accrescono sono piuttosto i costi. Per garantire al pupo un futuro sereno dovrà passarne di acqua sotto i ponti. Per lui, ai vostri figli, anche se piccini, insegnate l'arte del risparmio e del buon uso del denaro. L'eccessivo attaccamento all'avere, così come lo sperpero portano solo infelicità. I soldi non sono un fine, ma un mezzo. Colore delle emozioni, nocciola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.